Buongiorno a tutti voi, oggi parliamo dell'interpello tributario. Cos'è questo interpello tributario e quali sono le norme che lo guidano, perché è importante nel diritto tributario e quali sono le risposte e le domande che possono essere poste alla pubblica amministrazione finanziaria, quali sono i risultati che ottiene il contribuente dalla risposta dell'amministrazione finanziaria e diciamo quali sono le tipologie di interpello, oggi faremo un discorso su questo. Iniziamo dall'inizio dicendo che l'interpello ha la possibilità del contribuente di andare a effettuare domande alla pubblica amministrazione circa la disapplicazione e l'applicazione di una norma e circa l'interpretazione di una norma tributaria. Per quanto riguarda la disciplina, la disciplina a cui ci riferiamo nello specifico è l'articolo 11 dello statuto dei contribuenti, quale ci va a dire che l'amministrazione finanziaria deve rispondere all'interpello entro 90 giorni di tempo, che la risposta dell'amministrazione finanziaria deve essere emotivata e attenersi a quello che è la domanda del contribuente, che il contribuente ha possibilità di effettuare interpello entro la data di scadenza del contributo in oggetto. Per quanto riguarda il caso di interpello proposto congiuntamente da più contribuenti, l'interpello, la pubblica amministrazione finanziaria potrà andare a effettuare una risposta collettiva verso tutti i contribuenti. Per quanto riguarda chi va presentata fisicamente la domanda di interpello, la domanda di interpello va presentata fisicamente all'ufficio, va presentata all'ufficio che si occupa del tributo in oggetto per il quale si effettua domanda. Per quanto riguarda l'imposta di registro, gli imposti sui redditi e gli IVA, le domande vanno presentate all'agenzia dell'entrata. Per quanto riguarda i tributi locali vanno presentate le domande al comune di residenza. Per quanto riguarda come consegno il mio interpello fisicamente, con PEC o con raccomandata. Per quanto riguarda invece il termine per la presentazione dell'interpello, l'interpello può essere presentato e deve essere presentato entro la scadenza del tributo in oggetto. Per quanto riguarda l'interpello ordinario, l'interpello diciamo più diffuso, riguarda la richiesta di interpretazione di una determinata norma alla pubblica amministrazione finanziaria competente in tale tributo e bisogna andare a rimettere nelle generalità del contribuente, nell'ordinanza di interpello, bisogna andare a mettere le generalità del contribuente, bisogna andare a mettere una descrizione circostanziata specifica dei fatti e la normativa tributaria per la quale si richiede l'interpretazione. Per quanto riguarda l'interpello, può essere dichiarato inammissibile nel caso in cui non vengono indicate le generalità del contribuente, nel caso in cui l'interpello non si è proposto entro il termine indicato per la scadenza del tributo, l'interpello può essere dichiarato inammissibile qualora non vengono scritti in maniera circostanziata e specifica i fatti, l'interpello può altresì essere dichiarato inammissibile nel caso in cui riguarda una fattispecie per la quale il contribuente ha già chiesto un chiarimento con una verifica fiscale o nel caso in cui si è già stato proposto un interpello e la pubblica amministrazione finanziaria si si è già espressa precedentemente su come debba essere interpretata quella determinata norma. Per quanto riguarda le risposte che può effettuare la pubblica amministrazione finanziaria al tributo in esame, le risposte possono essere di un silenzio che equivale al senso e quindi accoglimento dell'interpretazione data dal contribuente, può effettuare un'interpretazione di forme da quella data dal contribuente o un'interpretazione quindi conforme a quella data dal contribuente. Che effetti avranno le risposte o la risposta dell'amministrazione finanziaria al contribuente? Viene dato questo parere che però non è vincolante per il contribuente e altra caratteristica è che il parere dato non essendo vincolante non può essere impugnato. Per quanto riguarda le tipologie invece di interpello che possono essere proposte sono quattro, sono l'interpello ordinario, l'interpello probatorio, l'interpello antiabuso e l'interpello disapplicativo. Per quanto riguarda l'interpello ordinario sicuramente più semplice, sicuramente più diffuso, si chiede semplicemente alla pubblica amministrazione come deve essere interpretata una determinata norma. Per quanto riguarda l'interpello approvatorio, il contribuente chiede all'amministrazione finanziaria se la situazione specifica è oggetto di un determinato regime fiscale o meno. Per quanto riguarda l'interpello antiabuso, il contribuente chiede se in una determinata situazione debba essere applicato un regime o non deve essere applicato un regime fiscale per evitare un abuso. Per quanto riguarda l'interpello disapplicativo, è l'interpello con il quale il contribuente mira a chiedere alla pubblica amministrazione finanziaria se può essere disapplicata una determinata norma e se la disapplicazione di questa determinata norma lo faccia arrivare in un pericolo di illusione. Quindi se può essere disapplicato o meno questa determinata norma per il parere dell'amministrazione finanziaria interpellata. Dopodiché abbiamo detto che il contribuente potrà seguire la scelta indicato dall'amministrazione finanziaria o comunque fare di testo a scopo le conseguenze giuridici che potranno derivarne dal non ascolto dell'amministrazione finanziaria. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.